Musica Era programmata da tempo la seduta monotematica del Consiglio regionale sull'Ilva di Taranto, ma la bufera in corso, dopo il ricorso al TAR della Regione Puglia e del Comune di Taranto, contro il decreto che ha scatenato l'ira funesta del Ministro Calenda, ha fornito l'occasione al Governatore Michele Emiliano di spiegare nella sua sede istituzionale le proprie ragioni. E non ha usato certo toni diplomatici, la forza dell'Ilva è sempre stata maggiore rispetto a quella delle istituzioni, ha esordito, consapevole di stare affrontando la più potente lobby del mondo, quella del carbone. A chi gli rimprovera l'opportunità del ricorso ha risposto ricordando i gravi problemi di irregolarità del DPCM evidenziati dall'Avvocatura regionale, che hanno spinto lui e il Sindaco di Taranto a procedere in modo parallelo attraverso ricorsi ampiamente condivisi e coincidenti, ma redatti in perfetta autonomia. Ha spiegato che per lui la decarbonizzazione non è una pregiudiziale, ma se è vantaggiosa non deve venire meno il diritto di sostenerla. Ribadito la volontà e la convinzione che l'Ilva debba continuare a funzionare, preso atto della considerazione strategica dello stabilimento da parte del Governo nazionale, ma deve farlo secondo un piano ambientale che sia accettato da tutti in città e che riconcili la fabbrica col suo territorio. Davanti a una platea silenziosa, dopo le proteste che avevano caratterizzato tutta la mattina, ha ricordato che l'Ilva è sempre stato una sorta di stabilimento extraterritoriale con la Regione Puglia privata di ogni possibile intervento ed esclusa da qualunque tavolo di trattativa. Il Governatore ha difeso altranza la sua iniziativa, che attiene soltanto alla salute dei cittadini, che verrà ritirata se il decreto verrà modificato. Per lui non è difficile trovare una soluzione cercando un punto di equilibrio. Non parteciperò a tavoli se non c'è il sindacato. Io il sindacato lo voglio a tavoli, per cultura e per necessità tecnica. Conclusione con l'invito a liberare Taranto e la Puglia dal sortileggio dell'Ilva e poi via dall'Aula mentre le opposizioni rimanevano in vano in attesa di discutere gli ordini del giorno presentati, orientati al ritiro del ricorso. Strada impraticabile. Mercoledì scorso i fantasmi dell'amica S.P.A. fallita sono riapparsi in Consiglio Comunale e hanno nuovamente improvvisamente alleggiato un'ipotesi drammatica, che sembrava ormai scongiurata, il dissesto finanziario che ha scatenato una nuova durissima polemica tra il sindaco in carico a Franco Landella e il suo predecessore Gianni Mongelli, con il coinvolgimento delle relative coalizioni e amministrazioni. Duro è il primo. Queste somme che danno ragione a noi, danno ragione alla preoccupazione della minoranza. Quando dicevamo guardate che il fuorimento dell'amica avrà a travolgere anche il comune, è la cosa che mi dispiace che non solo non siamo stati ascoltati, ma quel piano è stato certificato dal Ministro delle Finanze e al bagno continuo della Corte dei Conti e quando noi dicevamo che il fuorimento dell'amica poteva produrre il comune di Foggia, anche in questa istituzione qualcuno sorrideva in maniera sarcastica. Altrettanto forte la risposta di Mongelli. Su questa vicenda quindi io non consento a nessuno di lanciare accuse che tra l'altro sono gravissime. Primo perché si configurano due ipotesi di reato. Ho il procurato fallimento e allora qualcuno deve andare in procura a depositare carte. Dall'altro lato si configura un'ipotesi di calunnia nei miei confronti, perché se questa cosa, così come non è vera, è una calunnia importante che io non posso accettare di subire in silenzio. Entrambi, pur nell'esasperazione dei toni e nell'attenzione polemica, hanno però manifestato la volontà di fare chiarezza e illustrare alla città quanto è accaduto e quanto sta accadendo. Un'operazione verità che ancora manca nonostante anni di lavoro della procura della Corte dei Conti e dei Tribunali di vario ordine e grado. Alletto di contrapposizioni e distanze spesso siderali nel modo di intendere la politica e la gestione della pubblica amministrazione, che sarebbe indubbiamente positiva e quanto mai necessaria. Per chiudere, si spera, per sempre il continuo scaricabarile su colpe e responsabilità recenti e remote. E liberare finalmente il futuro della città continuamente prigionieri ostaggio di un passato ciclicamente pronto a riaffacciarsi. Un confronto pubblico nel quale un ruolo chiave sarebbe appannaggio di Carlo Di Cesare, responsabile finanziario dell'ente nell'amministrazione Mongelli, e che ricopre un ruolo di rilievo anche nell'attuale fase, estensore della relazione, oggi contestata, che ha garantito l'accesso del Comune di Foggia ai benefici legati al decreto salvaenti. Per dare un senso a quanto è accaduto, sta accadendo e quanto potrebbe ancora accadere, che potrebbe di nuovo proiettare Foggia in un cubo dalle ripercussioni devastanti. Al Via, il 18 gennaio del prossimo anno, al Tribunale di Foggia, il processo a 5 delle 6 persone coinvolte nell'inchiesta della Guardia di Finanza della Procura di Foggia sull'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di commercialista ed esperto contabile. Secondo gli inquirenti, alcuni candidati all'esame avrebbero avuto in anticipo le tracce. Sono stati rinviati a giudizio Michele Cristino, Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, a Claudio Ade Pascale, una candidata, il padre della stessa Silvio. Rinviate a giudizio anche Costanza Piccirilli e Anna Laura Di Biase, che, secondo la tesi dell'accusa, avrebbero svolto le tracce d'esame, trasmettendole ai candidati. E sempre secondo la tesi dell'accusa, Silvio De Pascale si sarebbe accordato, proprio con il giudice Cristino, per avere in anticipo le domande dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di commercialista per la figlia. Una sesta persona, coinvolta nell'inchiesta Alberto Pedone, sarà giudicata con il rito abbreviato. Il 4 gennaio scorso gli inquirenti misero a segno il blitz tutto a posto, scoprendo che alcuni componenti della commissione d'esame a vario titolo avrebbero svelato le tracce segrete di esame, accordandosi anche con i candidati e i loro emissari, per le interrogazioni orali, falsificando anche i verbali di commissione. Contagiare la legalità tra i giovani Come è sottolineato il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, è stato uno degli obiettivi dell'incontro che si è svolto al liceo scientifico Volta del capoluogo Dauno, dove diversi studenti hanno incontrato, oltre al procuratore Vaccaro, anche il prefetto di Foggia, Massimo Mariani, il questore Mario della Cioppa. Nell'incontro è stato evidenziato come l'educazione alla legalità sia uno dei principi cardini della convivenza civile e la scuola è uno dei luoghi più adatti dove poter insegnare il rispetto delle regole. Ma come ha sottolineato il prefetto di Foggia, non è sufficiente però parlare solo di educazione alla legalità. Per parlare soprattutto del vivere insieme e del vivere civile, che poi sono tutti sinonimi, cioè per me bisogna anche andare oltre il concetto di legalità inteso come ovvio rispetto delle leggi. Per me si tratta soprattutto di riaffermare le ragioni dello stare insieme, il come stare insieme rispetto degli altri. E tutto questo consente ad una comunità di funzionare adeguatamente. Quindi penso che più che parlare di cultura della legalità con termini stati abusati, e che evidentemente fa una presa, e sicuramente è un termine suggestivo, credo che dobbiamo parlare soprattutto di riscoperta di quei valori, di quei principi della convivenza sociale, della convivenza civile, del rispetto di quelle regole che poi ci consentono di stare insieme, che consentono alla comunità di andare avanti in maniera ordinata, e anche di svilupparsi, che poi è la cosa più rilevante. Noi cercheremo di spiegare, se possibile, ecco quello che facciamo, come lo facciamo, e anche le motivazioni, direi anche ideali, che ci portano a cercare di dare un contributo, sia per cercare di risolvere qualche problema, in una provincia che comunque ha delle forti complessità, che a voi sono molto meglio noti che a me, visto che sono qui da soli tre mesi, e cercare anche di dare qualche spunto di riflessione. Produttore, Foggia, il territorio sta attraversando un periodo difficile, però parlare ai giovani di legalità è importante? Sì, assolutamente sì, perché come ho detto nel discorso del mio insediamento, bisogna portare avanti non solo un contrasto, e quindi un'azione di contrasto alla criminalità in sedi giudiziari, ma anche portare avanti un discorso culturale, e il discorso culturale parte ovviamente dai giovani, dai ragazzi, dai ragazzi delle scuole, dai giovani universitari, per diffondersi, io spero che si crei proprio questa, come dire, contagio di legalità, e parto proprio dai ragazzi. Questa è ancora una volta la questura alla polizia, in mezzo alla gente, soprattutto in mezzo ai ragazzi, per diffondere la cultura della legalità. È uno dei nostri obiettivi, il fatto di essere qui in un liceo così importante come quello volta di Foggia, insieme al procuratore e al prefetto, mi riempie di orgoglio, oltre a essere un piacere, perché dimostra la compattezza della squadra Stato su questo territorio. I ragazzi sono il futuro del nostro territorio. Per questo motivo investiamo molto, e per questo motivo siamo qui oggi. Sono partiti questa mattina gli 80 scout d'Europa, giunti da tutta Italia a Foggia, per partecipare ad un campo scuola di formazione per capi rovers, i ragazzi da 17 a 21 anni. Da oggi, fino al 9 dicembre, i ragazzi percorreranno a piedi numerosi centri del Gargano, dormendo sotto le tende. 80 scout giunti da tutta Italia, dalla Sardegna, dalla Calabria, ma anche uno scout giunto dalla Slovacchia. Si tratta di scout che fanno parte della FSE, l'associazione italiana Guida e Scout d'Europa Cattolici. Molti degli scout sono giunti già ieri sera e sono stati ospitati al gruppo Foggia 1, con sede nelle parrocchie di Spirito Santo e San Giovanni Battista del Capologo Dauno. 80 scout che per sette giorni faranno strada per la prima volta nei comuni del promontorio garganico come Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo fino all'abbazia di Pulsano. Un'esperienza unica per la provincia di Foggia e per il Gargano che, come detto, per la prima volta è stata scelta come meta di un campo nazionale scout. Grazie a tutti. Sarà l'Andrea Scenier di Umberto Giordano in scena questa sera ad inaugurare il nuovo corso del Teatro Verdi di San Severo, proprio come nel giorno della sua inaugurazione il 9 dicembre di 80 anni fa. Una giornata di festa per la città che si vede restituire il suo contenitore culturale più importante. Il Verdi compie 80 anni e quindi apriamo ai giovani, apriamo alle associazioni, apriamo ai cittadini. Questa mattina abbiamo organizzato un convegno con la presenza di Antonio Stornaiolo in cui ci sono degli interventi che ripercorrono la storia del Teatro a San Severo che è una storia molto antica che precede anche la costruzione di questo teatro. Abbiamo voluto invitare tutti gli studenti, una rappresentanza di tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, proprio per far capire ai giovani qual è il gioiello che possiede questa città e che devono iniziare a frequentare ed amare. A proposito di spettacoli, ci fa qualche anticipazione sul cartellone? Sì, già questa sera alle 19.30 inauguriamo con Giancarlo Giannini, Giuliana Desio e con un concerto di Gianna Fratta che sarà un omaggio all'Andrea Scenier di Umberto Giordano. Avremo dei grandissimi nomi, Lina Sastri il 15 dicembre, a gennaio Massimo Ghini e Pannofino, poi avremo un fuori abbonamento con Enrico Brignano che dopo Bari ha voluto scegliere la città di San Severo perché è una città che ha sempre dato grande soddisfazione agli artisti. Quanto è importante puntare sulla cultura per una città come San Severo? Questo contenitore, quindi la programmazione culturale, è fondamentale per accrescere la coscienza civile, per creare le premesse per uno sviluppo che può riguardare tutto il territorio, la nostra città, ma io dico anche l'area vasta dell'Alto Tavoliere, quindi sicuramente è fondamentale. Questa mattina noi vogliamo rendere merito a chi 80 anni fa, con una scelta di grandissima intuizione, decise, deliberò di edificare questo teatro. Antonio Stornaiolo tiene a battesimo il Teatro Verdi, questa giornata molto importante per San Severo. È una giornata memorabile, io sono orgoglioso, considero un privilegio essere qui questa mattina perché il teatro torna alla comunità e poi perché questa prima apertura è stata dedicata alle studentesse, agli studenti di San Severo, quindi è bellissimo sapere che c'è un posto in Puglia dove si riapre un teatro di grande tradizione e dove da oggi la cultura potrà fare la sua parte per migliorare il territorio. Quando potremo rivederla calcare queste scene? Io spero prestissimo, perché ne ho parlato anche con Emilio che ho sentito per telefono, ho detto, uè, hanno riaperto il Verdi di San Severo, e Emilio ha detto, no, e noi dobbiamo tornare, perché l'anno scorso facevamo non uno, ma due spettacoli e fu un'esperienza meravigliosa, quindi speriamo di tornare presto, magari con uno spettacolo nuovo. Vi aspettiamo. Va bene, ci vediamo qua allora. Ciao!